Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Francesco Zambon, lavoro per l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Venezia e sono coordinatore di una rete che si chiama Regioni per la Salute. Grazie per essere intervenuti e grazie ai nostri relatori. Prima di dare la parola ai nostri illustri relatori. Volevo soltanto un attimo richiamare il motivo per cui siamo qui oggi con questa diapositiva che si lega anche al tema del festival, cioè la salute disuguale. Innanzitutto a sinistra vediamo forse un modello che voi avete visto tante altre volte, il cosiddetto modello a cipolla, ormai ha quasi 30 anni questo modello, che ci parla dei determinanti della salute. Cioè noi se vogliamo rimanere sani o se ci ammaliamo, quali sono i determinanti che determinano il nostro stato di salute o la nostra malattia. Abbiamo dei determinanti biologici chiaramente, ma poi dopo ci sono tutta una serie di altri strati, per questo si chiama modello a cipolla, dalla famiglia che influenza i nostri comportamenti, dalla società, dal livello nazionale e dal livello internazionale. E quindi di questo parleremo, perché oggi parleremo anche dei vari livelli dove si può agire per promuovere stili di vita corretti. La parte a destra invece è una cosa un pochettino più specifica per il workshop che stiamo adesso andando a sentire e soprattutto per il tema di questo festival, le disuguaglianze. Se vogliamo andare ad agire cercando di diminuire le disuguaglianze, cosa dobbiamo fare? Ci sono vari livelli su cui agire. Possiamo per esempio agire sulla diminuzione dell'esposizione a determinati fattori di rischio, che come sappiamo l'esposizione è determinata in base al livello socio-economico di appartenenza di un cittadino. Possiamo andare ad agire sulla vulnerabilità, sulle differenti conseguenze che ci possono essere quando c'è per esempio un incidente o una malattia o sul reinserimento lavorativo. Anche di questo parleremo perché questi sono i meccanismi attraverso cui le disuguaglianze si attuano in pratica. quindi si collega al tema della salute disuguale. Come struttureremo quest'ora che abbiamo insieme? Avremo un primo round di domande con i nostri relatori che ci daranno un po' un inquadramento sugli stili di vita, anche sugli ambienti urbani, anche su esperienze molto concrete. Però poi dopo vorremmo aprire anche la discussione con il pubblico, quindi con domande direttamente ai relatori. Quindi speriamo che sia una sessione interattiva.